No proviamo, no proviamo Che sexy Grazie Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Ragazzi e tu dici Marco ma che ce fai col tuo giubbottino sganzo Oggi quello un po' sbarallallero Marco già è una persona Bella però col giacchettino di pelle Ancora di più Ma soprattutto perché Perché ci sono delle zucche di Halloween qua dietro Oggi cosa andremo a fare Come avrete capito dal titolo Perché ogni volta il titolo c'è Perché non lo leggete? Dovete sentire quello che dico io Non lo so leggete il titolo Andrò a provare dei prodotti di bellezza coreani Per anche Riuscire ad adattarmi un po' a questi standard di bellezza Che sapete che sono molto sprempellosi Qua in Corea del Sud Sono ancora tutti impacchettati Quindi non so veramente cosa aspettarmi Ho comprato un po' tutto a caso ma lo scopriremo Insieme solo Vivendo Ora che adesso ho un po' paura Direi di incominciare Bene come vedete ho comprato un casaino di roba Ho speso un frandello di soldi per fare questo video Dove? Dove intendi dove ho preso questa roba? Beh l'ho preso un pochino su Aliexpress Un po' su Shane Ma sei cretino Ma perché? Che cosa non ho capito? Che sei cretino mo? Su Shane c'era il 30% Di cashback con Letyshops Ma chi ti ha detto che non l'ho fatto? Cioè tu mi dai del cretino così Io l'ho fatto io lo faccio sempre Quando devo fare shopping vado sempre su Letyshops Perché mi dà il cashback E tu dici Sai cosa è il cashback? Sì E tu lo sai certo ma magari loro No No? Sui siti di cashback come Letyshops Potete iscrivervi gratuitamente E dai siti Dai migliaia di siti che loro hanno nelle loro liste Potete fare acquisti E ricevere cashback Quindi soldi indietro Su qualsiasi acquisto che voi fate Per esempio in questi giorni c'è il 30% Il 30% Su Shane Quindi io delle cose che ho preso da Shane per questo video Mi sono ripigliato il 30% indietro E come? Gratuitamente Non è che devi andare a spegnere soldi in più Capito? Soldi gratis Bravissimo Allora anche io compro Cosa? Cosa vuoi comprarti? Una zucca Incredibile Su Shane avranno anche una zucca Forse quella più su AliExpress Comunque vabbè C'è il cashback anche lì Vi lascio il link qua sotto in descrizione Per vedere tutto il sito La app di Letyshops E andate a fare shopping E anche a guadagnarci gli disordi lì indietro Perché capito? Paghi ma ritornano Paghi Ma ritornano Sì Va bene Short Guy Visto che sei ospite Scegli tu il primo pacco Ok Quello piccolino giustamente Perché tu sei piccolo Scegli il pacco piccolo Now we're going with this one Short Guy sai cosa sono? Questi qua sono praticamente stickerini Che servono per farti gli occhi più grandi That was very racist It's not my fault It's your country Ok? Wow Servono a creare la doppia palpebra E dici come? Non lo so Adesso andiamo a scoprirlo insieme Close your eyes Scusate ma vogliamo vedere la differenza? Oh c'è tantissima tantissima differenza tra la sinistra e la destra Tantissimo sexy Me lo metti? C'è differenza per me? No differenza Uguale? No io so 6 Oh Sticker per farvi la doppia palpebra Promossi o no? Ni Nel senso secondo me Lo Short Guy non è proprio bravissimo a metterseli Se riesce a metterli nella posizione giusta Forse non si vedono tantissimo Però un minimo si vedono secondo me Io continuerei con questo Qualsiasi cosa sia C'è scritto che servono a ricostruirti il naso Molto bene Ma che? Ok all'interno troviamo Li vedete? Sembrano tipo dei piercing Per il naso Non lo so Ma invece ti ingrossano il naso Oddio 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 Riga Short Guy l'ha messo solamente alla sua destra E si vede tantissimo La differenza tra la narice destra e quella sinistra Yeah Oh my god Short Guy Credo che funzionino effettivamente Perché io sento il mio naso tirare all'interno Però è una cosa È una sensazione scomodissima Questo qui io gli do a voto Due Perché cioè nel senso Magari Nell'immediato c'è un effetto Però È troppo scomodo Andarci in giro Con sta cosa nel naso No Non metterti cosa nel naso No Ok 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 I make it Ma perché ho fatto sto video? Che schifo No riga non posso fare sta roba davanti alla telecamera Che schifo Prima di andare avanti Continuerai con Questo Short Guy Do you know what it is? It's a massage gun Si Questa è in assoluto La cosa più trendy Che c'è stata nel 2020 Ce l'hanno tutti A parte me Infatti non l'ho comprata Ma l'ho rubata Al mio personal trainer Che ringrazio Grazie personal trainer Se stai guardando sto video E praticamente È una pistola massaggiante Dovrebbe rilassarti il muscolo Anche per esempio Qua del collo Per poi crearti Avete presente I nuovi standard di bellezza Quelli che Insomma in Corea Dicono che Se vuoi essere bella Devi avere l'angolo A 90 gradi Qua tra il collo e la spalla Ecco Forse si accende così Ma che è super potente This is the best thing ever Proviamo a massima potenza No proviamo No proviamo Oh man Oh Oh mio dio Allora ragazzi È una È una sensazione Oh Non so come È come se io fossi morto E stessi risorgendo In questo momento Ma perché sto urlando Io comunque questa cosa Già l'ho vista Non posso dirvi dove Ma l'ho già vista Ma siamo sicuri Che nasce come un coso Massaggiante Questo e non come altro Pronto Oh mio dio I love it Non ho niente da aggiungere Credevo fosse una cacata immensa Ve lo dirò proprio con Cioè ve lo dico proprio Con il cuore E invece è bellissimo Perché ci sono degli appendi Abiti appendicose Vabbè Non lo so Sono confuso Questa è una bandana Che serve a liftarti La faccia Proprio vedi Che è tiftata la pasta Da così A su Vedete Ci sono Delle protuberanze Qui Che vanno A picchiarti il viso Per rimpicciolirtelo Effettivamente mi sento tirare Tutto incredibile È una bellissima sensazione Mi sento molto Valeria Marini Praticamente ti stritola anche qua Il mento Per fartelo sporgere Perché Così crea un po' L'effetto 3D Capito Secondo me Non è che se schiacci il mento Secondo me Non è che se schiacci il mento Allora Ti rimane schiacciato I'll give Ten Not if you're using this for fun If you're using this for fun But as a product As a beauty product I'd say Not even one Let's keep Yeah Let's keep it on Let's keep it on Oh No, I'm done I don't know what that is But when I look at the Quanggo Yeah They look so happy I'll show you Look at them They look so happy Why Why are they What's this thing? It's perfect for your chin What do you need? What is the purpose? To support your neck What about now? You can't go down, right? Yes Yeah Yeah Oh Ragazzi Ragazzi non mi metterò mai più Mai più Mai più Mai più Questa cosa in faccia Che mi crania Look at that It works Maybe it's for Asians I can probably say What's this smell? You know when you use your mask for like a few hours Yeah And then the air inside gets like really stinky Yeah This is for that It's really fresh Fresh Yeah It's really fresh Questi qua ve li avevo già fatto vedere nelle mie Instagram stories Ma raga se trovate degli sticker per mascherine profumati Questi qua sono Non so Questi sono questi Questi sono questi Incredibile come parlo Questi sono quelli che uso io Non so se li trovate anche in Italia Nel caso li trovo Vi metto il link qua sotto Is this 10 out of 10 right? 10 out of 10 And it's really cheap Like this is like I don't know No it's not a question though Con let the shops Let the shops Almost that Yeah Su Shane c'era il 30 Su Shane c'era il E questo è tutto per questo video Abbiamo scoperto cose utili che ci cambieranno la vita Sì In realtà sì Perché questi ti cambiano la vita Sono buonissimi Sono la cosa più figa del mondo Tutto il resto Probabilmente no Anche se al George Roy Pace tantissimo questo cosa per il collo My favorite is Well I feel like everyone could tell That it was this one I mean it's so good Pizza Ciao Do you believe in love to love to love love to love to love to love? Blom-volm-volm-volm...